Catanzaro e Crotone continuano il loro duello in vetta alla classifica. Le due battistrada calabresi di Vivarini e di Lerda fanno letteralmente il campionato a parte, vincendo praticamente ogni domenica. Le acule di Vivarini passeggiano anche al Dei Olivi di Andria e battono la Fidelis con un perentorio 4-0. Pratica chiusa già nella prima frazione con le reti di Van de Putte, Iemmello e Di Biasci. Nella ripresa ancora Van de Putte mette i titoli Tigoda alla gara. Per la Fidelisandria ancora non arriva la prima vittoria, stagionale. Il pescare a Viola e Viviani di potenza con un tris, gli attaccanti dei Delfini spaccano la difesa lucana. Segnano l'Escano prima, momentaneo pareggio, del difensore Matino. Poi il grande ex Cuppone segna a fine primo tempo ed il tris è servito dall'ex Evelino Crecco nel recupero. Una prudezza di Mignanelli al suo secondo centro fa vincere la Juve Stabbia al Menti contro il Picerno. L'ex esterno dei Lupi frutta sei punti a Colucci dopo il gol in casa del Monterosi. Terza vittoria consecutiva per il Latina di Mister di Donato, che rompe al quarto posto. Seso il Taranto di Capuano, decide un guizzo di San Nipoli al minuto 49. Foggia a picco in casa della Gelbison, neanche Gallo riesce a scuotere i satanelli. Faiella e Gilli piegano i rossoneri, ormai piombati, in una crisi senza precedenti. Da quando c'è De Sanzio in panchina, invece, la truppa occidentana vince sempre. Giuliano imbattibile al partenere Lombardi. I tigrotti di Mister di Napoli battono anche la Virtus Franca Villa di Calabro 2-0. Gladestoni e Nocciolini chiudono la pratica virtussina nel primo 45 minuti. E Gladestoni, al momento, in casa giallo-blu, è il calciatore più in forma. Il colpa, sorpresa, lo mette a segno la Viterbesi a Monopoli. Al Veneziani decide la contesa il gol di Nesta e primo successo per i leoni laziali di Filippi. A Pontedera la Turris vince 5-3 in casa del Monterosi. Vantaggio laziale griffato da Ambende. Poi, i Coralini aprono il fuoco con Leonetti e Giannone, che ribaltano nel primo tempo i locali. All'inizio ripresa, gol dell'ex Avellino Santaniello. Sembra fatta, ma sul 3-1 Carlini non ci sta. Ed in pochi minuti realizza una bella doppietta, rimettendo la gara in parità. Il festival del gol per i torresi continua al minuto 65 con ancora una volta Giannone. e a 10 minuti dal termine ci pensa Leonetti a mettere il punto esclamativo sulla partita. Tris del Cerignola sul Messina. L'audace torna al successo. Gara sbloccata nel primo tempo con A-Kick. Poi, nella ripresa, prima d'Andrea, infine il rigore di Malcole, portano al ridosso della zona play-off i ragazzi di pazienza.